se vuoi a national park ma che è il costume? le butti così il costume se ne siamo andati senti la natura? l'osore di natura? Samuel questo è il posto tuo qui dove c'è? qui dove c'è il cammino? non ci sono l'arli Sì, fatti apposta. No, peggio quella del torrente del golepardo. Sì, a voglia. Siamo due ore. Se avete fatto il bagno, faremo il bagno là. E là? Sì, però poi andiamo. Sì, non? 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 Sì, non abbiamo idea di che... Perché poi diceva di metterli nel forno e non c'eravamo il forno. Sì, non? Ma te lo cerchiamo. Sì, non è vero. 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 Dai, mettiamoci tutti e nove. Ma questa è una piccola. Ci fanno un paio di foto queste qui. No, no, no. Qui alcuni hanno preso anche fuoco. Sono immensi. Questa è come lo vedo io, anzi lo vedo un po' più grande come se viene da fuoco nel video. Un po' di proporzione si vede meglio così. Sto avvicinando Simona, intanto a vederla. 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 Ricordate sull'autore di Isbrook? L'altra volta, mentre lo aspettavo, ho buttato a voi nel precipizio un sesso in giù. Non l'ho sentito arrivare. Poi senti uno sotto di mortacci. Il tempo ci sape, dov'è andare a riniti, c'è un po' tanto. Quando si trovi, chi è il nome? Cadere, chi è il nome di Israe. Il nome di Israele Tiucii e tu hai avutato, C'è un po' tanto. al catiro wow ah ah stai facendo come va bene va bene la siama di amiru il 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 sono sia non ho mi è Grazie.